Salve a tutti gli amici del Parco di Ercolano e dei beni culturali. Anche il Parco aderisce all'iniziativa Io resto a casa. Noi siamo qui, nella nostra casa di lavoro, a preparare il sito in attesa di potervi riaccogliere al più presto. Ercolano è un luogo straordinario che ci ha insegnato nei secoli la resilienza, la capacità di riemergere da ogni catastrofe. Usciremo anche da questi problemi e nel frattempo porteremo il Parco nelle vostre case. A presto!